Il numero numero 5 è Finoi, il numero 9 è Michele Antonupi, il numero 10 è Bruno I.Pedra, il numero 12 è Andrea Cersieris, il numero 12 è Federico Mussini, il numero 13 è Primetta Scantinessa, il numero 12 è Primetta Scantinessa, il numero 12 è Primetta Scantinessa, il numero 12 è Primetta Scantinessa, Riccimoria Civiglia, vatte Antoni Castanacaltur 84 e 77,blocki Riccimoria Civiglia con questa semifinale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.